Salve amici di Youtube e benvenuti in questo nuovo video di BAM GOMB Siamo qui I'm going to be guest E tu? Inferno No, no volevo dire su CSGO Ma dovevo mutare le persone che parlano ogni volta quando io faccio la intro Quindi benissimo, va fai culo Replay, replay, rifai tutto Eh no, ormai iniziamo e qui con me c'è Gage E poi Rock al Vex Rock al Vex Tu chiacazzi? Il pezzo di mezza Ok Allora... Oh, i polli natalizi, che belli Aspetta che gli muto Ok Ok Mi despi Un pass Tutti a casa, tutti a casa Mamma mia, mamma mia Mamma mia, mi sanguinano gli occhi per come sparo questo Andiamo per Berlion Abbiamo, allora praticamente Kaydel, bravissimo Un giocatore del torneo mondiale di CSGO e giunto più bravo di tutti, ecco, quindi non è la favola Sicuramente Non è la favola Come ho fatto Come ho fatto Come ho fatto L'ho preso in volo. L'ultima long, l'ultima long era. Non ci credo, l'ho preso in volo. Long, dove è long? Dritto, davanti a te, giri a destra, giri a sinistra, giri a sinistra, 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 si, si, ciao, ciao, in B, andate in B. Sicuro al Gesù per cento in B. Praticamente è come morire, perché praticamente abbiamo cosa che a poca vita io l'ho al massimo e me lo faccio cagare. Vabbè, compensiamo. E invece non è subito. Ah, sì, sì, è banana, si aveva droppato l'arma. Ah, ok, l'ho visto. Ciao, vedi, guarda, ho delle orecchie che sono. Olè! È così, prendi, prendi la sforma, prendi la sforma! Prendi la sforma! Permigi, permigi. Ah, è uno scout, scherzavo. No, no, ecco. No, tutela la WP. Ma che cazzo? Moriremo 3. Ma, dovevo giocare? Come dovevo giocare? Il vostro livello? Il mio livello? Il mio livello, gioca il mio livello. Al tuo livello? No, 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 no. Non è long. Io non sape dove è sicuramente long. Banana. Che scherzavo, è già finita? Che cazzo, non ci dirà. Poi l'altro che è vicino a me, mi ha inculato una kill. Eh? Pireo. Pireo. Beh, 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 beh. Adesso il signore è lei, Cade, vada a destra. Eh, la, quello qui prima è Rocky va a sinistra. Vabbè. Ok, sei bravo, fai così. Niente a te e gli facciamo un gioco di squadra. Giusto di squadra. Giustamente io sono te stesso. Quindi, eh, vieni di via. Beh. Scoscio banana. Chi è il monaco? Una banana in fondo a sinistra. Ah, la prima cosa. Porca puttana. Beh, l'ho preso. Beh, un altro. Granata. Scusate. Beh, beh, adesso ce n'è uno. Scassato. Due addirittura. Sono tutti in middle, tutti nella loro base. Ben, ben, ben. Ben, 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 ben. Ben, 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 ben. Ben, ben. Che cos'era quello? È quello di Chris che mette sempre la ragazza che fa il verso del gatto. È pulito, infatti. No, non è pulito. Ben. Non è pulito per un cazzo. Eh, ma è sporco di sangue, che pulisce? Metti una rapina! Uuuh, vabbè. No, grazie. Gandalf. Abbiamo Gandalf con noi. Beh. Uuuh. Che cazzo si fa? Grazie per la flash. Ma fa culo! Mori, merda! Figli di puttana, dove siete? Ehm, vabbè, ma che bastardo, dai! Ma, una kill? Cioè, io non chiedo tanto. Una. Ok, sei ultimo. No, Eldor è che cattati la mente. Sì, sono ultimo. Tutto. Tutto. Stai spaventando. Una, una. Una me. Perf, please. Ma tu muori. Ah, la tua. Una. Non chiedo tanto. Dovetevi dai cammini. Ah, sì. Un balla! Ah, incredibile, attenzione, questo headshot, incollateral, incredibile, a me è impossibile, io ho sparato prima io, non è vero, così si farà prima degli altri, ma come hai fatto tu, vedi l'altra vp, Cade, vai se ancora questo, è un banana, allora, vai, vai, è diverso, magari è diverso dalla ferma, la tua logica, la tua logica è accettibile, magari è diverso dalla ferma, per un attimo si vedeva attraverso, perché ho fatto, lo so, lo so, non capisco perché ho fatto sta cappellata di mettere la smoke qua, per vedere attraverso la smoke, musica, musica, ti è sparato nel culo, non se lo dimenticherà mai, no, ho visto, ho cambiato la buca, grazie, bravo, hai visto, questi sono, no, ho sbagliato l'arma, facciamo un full team sniper, beh, 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 tieni questo che dobbiamo fare full team sniper, ma non vabbè, magari ti, sei uno sniper rinato, ciao, ciao, attenzione, eh, l'ho fallito, fallito, mi richiedo, non so che faccia fare il 360, io lo scoop con un GCS, guarda, te lo faccio io, te lo dedico, è l'altra dietro, ce l'hai tutti dietro, uno dietro, girati, 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 le orecchie però, dove ce l'hai, nel culo, addio, 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 perché è sempre la stessa, no, hai cambiato la telecamera, perché, no, m'hanno ucciso, sì, però dico, la postazione è in sé, è solo smoke, è solo smoke, vai, 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 c'è uno a destra e una a sinistra, Rocco, si freddi, vai si freddi, uno a destra e una a sinistra, corretto, uno a destra e una a sinistra, uno a destra e una a sinistra, destra, 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 quella è la fontana, più a destra, vai, subì l'ultimo, b, 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 che hai visto il, corra, 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 quello lo metti nel video, perché, lo metti nel video, lo metti nel video, mi interessa, è a destra, об Opti, come se dice in inglese, bar, Nih, come si dice bar, adesso muore di scusa, Bara! COFFIN! Eh, scusa, che cazzo! Queste copri v'è mutato venuto! HOLY! Oh, cazzo! Calvati! Oh, cacarotto! Cacarotto! Cacarotto in cool! Calvati! Cacarotto in cool! Vabbè, non mica... Tieni la bomb! Tieni la bomb! Knife! Uno che ti sta salendo dietro di te! Uno davanti a te! Pensiamo, non è incredibile! Silver Battle! Silver Battle Challenge! Perché? Vabbè, vedere a volte queste cose... Vedere gente che spara in cool mode mi seguono un pochino gli occhi e il cuore mi si spezza! Grazie, grazie! Onesto! Vabbè, erano gemelli, uno dietro l'altro! Oddio! Cazzo vuol dire?! Se ne ho sparato uno, ne è comparse un altro sempre dietro di lui e non l'ho potuto incidere! Bomba drop! Ho sentito! Scritto in modo male! Nooo, sei una! C'hai proprio... Lo sai cosa hai? Lo sai, lo sai cosa hai! Centro con tua madre! Direi... Ehi! Guarda che sono forte! Oh! Chi è che blocchi? Vai quando io ti chiedo! Mi hai ucciso! Quando entri, in alto a sinistra stava! No, scusate! Tu lo li è! Ma vabbè, io ti riusco! Go Yalo! Go! C'hai due a sinistra, uno che arriva da tunnel, credo! Sì, uno che arriva da tunnel! C'è uno col nero! E uno dietro! Dietro! Dietro dietro dietro! Due, forse! Non ne sono sicuro! No, era uno! Eh... Sì, ti, ti, ti... Yeh! Ma... Una cosa... Ma sei tipo... Io lancio un bestemmiere quello proprio lungo 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 lungo... Poi ci metti un bel... Ci metti un bel bip dall'inizio alla fine! Nooo! Dai, ti prego! Nooo! Ti prego! Dai! Dai! Nooo! Tiro proprio la micchia... Che rischia... Dall'inizio alla fine devi mettere un bip! Eh nooo! E ci metti... E ci metti anche il timer in alto a destra! Dai! Non può finire adesso! Tu ti è il bestemmione della madonna! No, non posso mettere un bestemmione! Nooo! Ci metti un bip! Nooo! Dai! Ti sei salvato! Ti sei salvato! No, eh! Non... Non... Non è che mi sto toccando! Quindi ragazzi! Rocky è... Nova 3! Io sono... 5! Silver! Ed è ultimo! Silver Master! Silver Master! Cioè! Guarda! Quello di due... Nova! Due Nova! Due Nova! Ci ha superato! E quindi ragazzi per questo video è tutto da Bayon Comity e... Cade! Ricordate di scrivere subito sotto nei commenti... Hashtag Bayon Boostato! Ok! E poi c'è anche... Rocky... Elvis! Ciao! Eccolo qua! Ci vediamo in un prossimo video su CSGO! Quindi ragazzi... Ciao a tutti! Bella! Ciao a tutti!